Dopo nove anni arriva la parola fine sulla vicenda della morte del giovane Massimo Casalnuovo di Buonabitacolo, avvenuta da un posto di blocco dei Carabinieri nell'agosto 2011. Una vicenda dolorosa su cui ieri sera si è pronunciata la Corte di Cassazione. Il maresciallo dei Carabinieri Giovanni Consolo non ha responsabilità per la morte del giovane 22enne che in quella sera di agosto di nove anni fa cadde dallo scooter dopo averne perso il controllo. I giudici romani hanno infatti respinto il ricorso presentato dalle parti civili contro l'assoluzione nell'appello bis che aveva confermato la sentenza di primo grado. Il maresciallo Consolo, accusato di omicidio preterintenzionale, era stato condannato in primo grado a quattro anni e sei mesi. I legali del militare avevano poi presentato ricorso e la Corte d'Appello bis di Salerno aveva assolto Consolo. I familiari del 22enne di Buonabitacolo hanno quindi presentato ricorso in Cassazione. Gli ermellini si sono espressi ieri sera rigettando il ricorso e dunque confermando la sentenza di assoluzione per il maresciallo dei Carabinieri. Si chiude così definitivamente il processo sulla morte del giovane meccanico di Buonabitacolo Massimo Casalnuovo.